ciao qui matteo bellini di chef del benessere ti do il benvenuto anche oggi nella mia videopillola matutina nella quale per la rubrica sperimentiamo ti voglio parlare di un argomento che in molti mi avete richiesto ovvero la cottura del riso pilaf il vocabolo pilaf deriva da un termine arabo che significa appunto riso bollito di che cosa avrei bisogno per preparare questo riso in maniera eccezionale beh di 340 grammi di riso a chico lungo mezza cipolla due cucchiai da tavola di burro una manciata di pistilli di zafferano mezzo litro di brodo di carne e un pizzico di sale per salare il brodo per realizzare al meglio questa ricetta per prima cosa dovrai pulire e tritare finemente la cipolla fai scaldare il burro oppure l'olio se preferisci in padella mettici la cipolla tritata e falla stufare a fuoco basso nel frattempo scaldabene il brodo di pollo e aggiungi lo zafferano a ovviamente se vorrai potrei utilizzare tranquillamente un brodo vegetale al posto del brodo di pollo quando la cipolla inizierà a stufarsi per bene spegni il fuoco unisci il riso e mescola bene in modo che il riso e cipolla si amalgamino la perfezione trasferisci ora il riso con cipolla in una pirofila e copri con brodo bollente ricorda il brodo dovrà superare lo strato di riso di almeno un dito copri con la carta stagnola la pirofila e in forna a 190 200 gradi centigradi dipende dal forno per 35 minuti al termine della cottura sfona la pirofila rimuovi l'alluminio e sgrana bene il riso con la forchetta ora non dovrai fare altro che servire il riso come accompagnamento di secondi di carne pesce o verdura e tipologie di riso ideali per questo tipo di cottura beh quelle etniche a chicco lungo come ad esempio riso basmati o riso patna il riso pilaf una volta cotto si conserva per 24 ore in frigorifero e se vuoi un ulteriore trucco prima di cuocere il riso pilaf sciacqualo bene in questo modo dopo la cottura i chicchi risulteranno ancora più sgranati bene anche per oggi è tutto io come sempre ti ringrazio di avermi seguito ti mando un grosso abbraccio ti auguro buona cucina e ti do appuntamento domani con la prossima video pillola sempre alle 8 sempre con me ciao